eh no questo è importante dipartimento di oncologia scusa questo è che ci sta scritto qua dipartimento di oncologia allora questo signore c'è un tumore questo signore quindi ha fatto le vise normalmente chi c'è il tumore sozzoni va a farsi le chemie quindi vanno a farsi le chemie all'ospedale all'altra parte e là si avesse parcheggiato certe volte ci vanno in grama se non hanno l'accompagnamento si deve parcheggiare allora a questi signori ci dovrebbe dare un tesserino momentaneamente fino a quando non sta a finire la cura per un anno, un anno e mezzo, due anni fino a quando o se l'archivolo fa traterno o può guarire questo tesserino una volta che qua ci sta l'avvisa azienda se faccio leggere per non far vedere lo nome azienda Ursi di Pescara la commissione già ha detto ha visto tutte le cartelle questo qua c'è il tuo ora ha bisogno del tesserino dove piace il tesserino? ai vigili urbani sozzoni sia di dove fai tu sozzoni vanno ai vigili urbani e dice questo signore ha bisogno di prendere il tesserino e no perché deve fare un'altra visita lo deve visitare a via veselo il dottore sempre della commissione una tra volta c'è con il suo avesse a fare 17 visite non è che basta invece vedi la burocratia basta se tu fai una volta che ti fatti vedere che se li stai in l'altro mondo forse già e devi su cazzo di tesserine ha da parcheggiare solamente per farsi la cura no questo è il mondo questo è il mondo dei sozzoni capite della federazione di questi sozzoni che devono lasciare un tesserino sozzoni e andiamo avanti piuttosto chiaro allora dicevo oh no non è chiaro sì sì chiarissimo d'accordo per stemperare no perché quanti settimane uno no mica la gente sta buona Rocchi sta buona tutta la Rocca tutta la Rocca cazzo ne frega quello si sta morire e voi sareste quelli che andate voi tra parentesi anche in chiesa a pregare il Padre Eterno e dire confesso a Dio non i potenti e di aver peccato in pensieri parole d'opere d'omissione zozzoni fate schifo fate per ribadire andiamo avanti adesso Gianfranco